Io credo che sarebbe un fatto estremamente importante se il giorno in cui avessimo portato il nostro paese fuori dal Duado, per usare un termine che si corre molto, fuori da questa crisi per intenderci, potessimo dire che dall'inizio alla fine della nostra battaglia, comunque ci siamo chiamati e qualunque forma abbiamo dato alla nostra attività politica, noi abbiamo servito per difendere i lavoratori, per garantire la libertà degli individui e la democrazia del nostro paese.